buongiorno ragazzi oggi per voi la cui fascia d'età vai da 60 a De Gasperi spieghiamo un concetto fondamentale le conseguenze dell'uscita dall'europa se siamo qui è perché molti di voi che hanno tutta la vita davanti pensano che uscire dall'europa sia come andare a comprare le sigarette in Brasile senza tornare mai più con la differenza che l'unione europea è un'organizzazione internazionale politica economica a carattere sovranazionale e non vostra moglie capito Enzo sono 28 paesi che hanno fatto un matrimonio chiaro no franca non è beautiful lì sono 28 matrimoni in una puntata qui un matrimonio solo con 28 paesi ogni paese accettato di accomunarsi con un altro noi abbiamo accettato la stronzaggine dei francesi le ciabatte dei tedeschi l'orrende serie tv senza alcun senso degli spagnoli e loro in cambio ci tollerano all'Eurovision contest un matrimonio di 28 paesi senza le gioie della prima notte di nozze in treno merci a Venezia ma con le roboanti rotture di coglioni in caso di divorzio analizziamole queste rotture di coglioni inflazione non è una malattia venere ok non c'entra in niente con la prostata semmai c'entra con la visita prostatica perché gli effetti sugli italiani sono gli stessi ovvero un bel dito nel culo uscire dall'europa e tornare alla lila significa che la nostra capacità di acquisto è infinitamente più bassa sarebbe come rinunciare a emilio taglioschi per girare l'obbrigida ma come adesso una che te la ricordi pure con l'alzheimer restituzione dei debiti nel caso dell'italia sono 400 miliardi di euro nei confronti dell'europa 400 a voi a girare la ruota enzo occhi e croce l'europa mi sembra tollerante come il clan dei casalesi voi state morendo ma se permettete io ad annegare in un pilone di cimento non mi ce vedo perché si sa il cemento ingrassa pensioni a causa dell'inflazione anche le vostre pensioni varranno zero ma consolatevi sempre meglio che non averla portacci vostra chiaro ci sono domande non ci sono domande andiamo avanti grazie a tutti